Cosa ti dico? Gli fai un po'... Ehi, aspetta un po' d'acqua... Ehi, guarda un po'... Ehi, guarda un po' d'acqua... Ehi, guarda un po'. Ehi, guarda un po' d'acqua! Ehi, guarda un po'... Tu ti ho fatto un piacere, ringrazio... ...ma no? Ti ho fatto un piacere... ...che me ringrazia... D'accordo. Sì, è morto. Ma come si è messa? Ti ho messo? Mamma mia! Voi! Guardate la mano! C'è, è uscito. Ma cosa hai fatto? Boh! Ha cazzato!